Ciao ragazzi, io sono Frenkie iEnergyMC e vi volevo dire che quest'anno si festeggerà la mezzanotte e l'arrivo del nuovo anno insieme in piazza Ganganelli a Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'è un chilometro quadrato tutto dedicato alla musica, al divertimento e allo stare insieme. Quindi, ripeto, 31 dicembre 2017, piazza Ganganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, ci sarà Frenkie iEnergyMC e un sacco di altra gente. E ci sarete anche voi, amici miei! A presto e auguri! A presto e auguri! A presto e auguri! A presto e auguri!